ben ritrovati allora oggi ci occuperemo di un passo o meglio di un capitolo che è molto ben noto giovanni 10 a parte che parla del buon pastore però noi non facciamo riferimento ai primi 21 versetti facciamo riferimento alla seconda parte di questo capitolo che è ben noto andiamo alla lettura giovanni capitolo 10 da verso 22 in quel tempo ebbe luogo in gerusalemme la festa della dedicazione era d'inverno e gesù passeggiava nel tempio sotto il portico di salomone i giudei dunque gli si fecero attorno e gli dissero fino a quando ti ha reso speso l'animo nostro se tu sei il cristo diccelo apertamente gesù rispose loro ve l'ho detto e non lo credete le opere che faccio nel nome del padre mio sono quelle che testimoniano di me ma voi non credete perché non siete delle mie pecore le mie pecore ascoltano la mia voce e io conosco e io le conosco ed esse mi seguono e io do loro la vita eterna e non periranno mai e nessuno le lapirà dalla mia mano il padre mio che me le ha date più grande di tutti e nessuno può rapirle dalla mano del padre io e il padre siamo uno gli giudei presero di nuovo delle pietre per lapidarlo gesù disse loro vi ho mostrato molte buone opere da parte del padre per quale di queste opere mi lapidate gli gli sposero non ti lapidiamo per una buona opera ma per bestemmia e perché tu che sei uomo ti fai dio gesù rispose loro non sta scritto nella vostra legge io ho detto voi siete dei se chiama dei colore quale la parola di dio è stata diretta e la scrittura non può essere annullata a colui che il padre ha santificato e mandato nel mondo voi dite tu bestemmi perché ho detto sono il figlio di dio se non faccio le opere del padre mio non credetemi ma se le faccio anche se non credete a me credete alle opere affinché sappiate riconosciate che il padre è me e io sono nel padre essi perciò cercavano nuovamente di arrestarlo ma egli sfuggì loro dalle mani gesù se ne andò di nuovo oltre il giordano dove giovanni dal principio battezzava e là si trattenne molti vennero a lui e dicevano giovanni è vero non fece nessun segno miracoloso ma tutto quello che giovanni disse di quest'uomo era vero e là molti credettero in lui ora questo è un brano che non so quante volte si è predicato sicuramente meno rispetto alla prima parte che non abbiamo letto è un brano che ha a che fare con il passato il presente di gesù e i tempi oggi quelli che verranno ora perché il passato intanto consideriamo che gesù va a gerusalemme in un momento particolare per la festa della dedicazione se noi analizziamo bene le feste indicate il levitico questa festa non è elencata tra tra quelle che noi ben conosciamo la pasqua gli azimi pentecoste la festa delle trombe e tabernacoli il sabato il giubileo e allora perché è indicata nella scrittura visto che non è tra quelle indicate da da dio nella legge allora oltre alle dedicazioni ne avremmo un'altra che ben attestata anche oggi nel mondo ebraico ed è la festa di purim festa di purim che in un modo o nell'altro la ritroviamo in un libro ben conosciuto che il libro di ester ed è festeggiata anche oggi nel mondo ebraico ed è considerato una festa per lo più carnevalesca ma la dedicazione come nasce la dedicazione nasce duecento poco più di duecento anni prima di gesù in che ambito siamo noi ci troviamo quando giuda era sotto il controllo dei selecidi in quel periodo prende il potere antioco quarto lui si fa chiamare epifane cioè dio rivelato dio manifesto probabilmente potrebbe essere una provocazione lui amava lo sfarzo ma era un tipo geniale un po come il padre e suo desiderio è quello di espandere un po l'impero selecida anche verso sud verso il legitto ricordiamoci che quest'impero si è creato dopo la suddivisione dell'impero di alessandro magno nei suoi quattro generali ai selecidi e sono stati dati la siria più tutta la parte dell'iran della turchia e dell'iraq e invece i tolomei hanno preso la parte del legitto che cosa fa allora lui più volte cerca di estendere proprio di minio sull'egitto sapendo una cosa in qualche occasione hanno un po sono andati un po oltre mettendosi contro roma che in quel periodo si stava allargando e per questo roma ha deciso che i selecidi antioco quarto doveva pagare sempre tasse sempre più alte e allora antioco quarto aveva questa cosa di togliersi il debito romano ma nello stesso momento cercare estensioni altrove che cosa accade però l'idea sua in giuda era quella di ellenizzare tutto il territorio quindi quest'idea che gli ebrei avevano un solo dio che avevano le loro le loro loro modi di vivere era completamente strana al mondo greco ecco perché si parlava di ellenizzazione tanto che anche all'interno c'erano dei partiti che volevano ellenizzare e cambiare il modo di vita della degli ebrei tra i quali alcuni che possono diventati anche sommo sacerdoti come jason e menelao che cercavano anche di comprare le cariche per diventare sommo sacerdote solo che in un momento in cui lui si trovava in egitto e la la conquista dell'egitto o meno entrare in potere in egitto non va a buon fine di ritorno passando per gerusalemme vede che ancora non accade niente niente e nessun tipo di ellenizzazione è accaduta e allora cosa comincia comincia a conquistare stavolta con la forza quei territori che erano da lui controllati conquistare perché perché imponeva la sua politica la sua ellenizzazione con la forza profane il tempio e trasforma il tempio in un santuario dedicato al zeus olimpico quindi con questa profanazione cosa fa fare lui fa mettere un'immagine che dagli ebrei era chiamata abominio della desonazione questa è accaduto il 15 dicembre del 167 avanti cristo e che cosa fa tanto per profanare ancora di più il tempio dieci giorni doppio cioè il 25 dicembre del 167 offre sacrifici al sol invictus quali sacrifici fa quella di maiale che per gli ebrei erano animali impuri ora alcuni gli storici dicono che anche la statua l'immagine che si è fatta lì che doveva rappresentare zeus era fin troppo familiare a questo antioco quarto che era molto brillante però un po diciamo orgoglioso aveva un po questo modo di fare estroso e quindi comincia un po una divisione all'interno degli ebrei perché c'è chi erano favorevoli a questa ellenizzazione ma molti invece non lo erano tanti che alcuni muoiono come martini altri cedono alla nuova adorazione altri vanno in zone disabitate cercando di fare resistenza ma che accade in una zona mentre c'è c'erano i rappresentanti di antioco che volevano fare sacrificio a zeus utilizzando anche gli ebrei per farlo si trovava un ex sacerdote un certo mattatia che vedendo che qualcuno degli ebrei stava per sacrificare a zeus allora lui preso un po di gelosia va uccide i rappresentanti di antioco uccide l'ebreo e scappa fugge con i figli i suoi cinque figli da lì comincia una certa resistenza che ha a capo una famiglia la sua chiamata la famiglia dei maccabei loro ovviamente sono in minoranza non hanno le forze di un esercito come quello se leucica se leucido e allora che succede succede che attraverso la guerriglia dopo tre anni riescono a recuperare gerusalemme e liberare il tempio quindi si riprendono il tempio e subito lo ridedicano perché in un modo o nell'altro è stato sconsacrato da antioco come avviene la ridedicazione è il talmud che lo racconta e allora secondo il rituale la menorah del tempio doveva essere illuminata permanentemente con olio di oliva puro solo che in quei momenti loro avevano olio per un giorno e per creare del nuovo olio pronto per metterlo nella menorah che sarebbe il nostro candelabra sette braccia occorreva una settimana però in ogni modo loro lo hanno acceso comunque hanno accesi i lumi e miracolosamente quell'olio è durato per tutta la settimana ecco con la dedicazione o come viene chiamata dagli ebrei l'anukah che ogni tanto penso in televisione viene visto come la festa delle luci viene commemorato il ricordo del miracolo dell'olio e la ridedicazione del tempio proprio in questo giorno quindi siamo in dicembre gesù va a gerusalemme ed è l'unico posto dove viene citata la festa delle dedicazioni si trova qui ci va d'inverno quindi faceva freddo e si trovava nel portico di salomone che era un luogo dove si discuteva ed era un luogo ideale perché era lì da si dava verso l'est quindi c'era il sole che poteva riscaldare in un periodo freddo come quello invernale e molti anche credevano che molte colonne di questo portico ancora risalissero ai tempi di salomone in ogni modo era un luogo di discussione ed è qui che comincia la discussione tra gesù e coloro che in qualche modo cercavano di fargli dire qualcosina in più per condannarlo e allora qual era la prima domanda che gli fanno i giudei e allora senza girarci al tonno dice dicelo apertamente se tu sei il cristo perché non stiamo qua in ansia ad aspettare quello che ci devi dire tu allora la risposta di gesù fu diretta diceva come se ve lo dico e non ci credete se non credete a quello che dico almeno credete alle opere che io faccio il nome del padre almeno credete a quelle e invece non credete neanche quelle ma c'è un motivo di base perché perché nonostante le testimonianze attraverso la sua voce e i suoi fatti non non malevano loro non potevano credere perché non erano delle sue pecore ecco qui il collegamento con la prima parte di giovanni dieci che parla proprio che gesù è il buon pastore si racconta gesù è la porta che tutti dobbiamo attraversare e che fanno le pecore ascoltano la voce del loro pastore ascoltano la voce hanno fiducia nella voce del pastore e che cosa fanno lo seguono di conseguenza il pastore vada ad ognuno delle loro pecore ora c'è un'idea che è in oriente che è un modo di trattare le pecore ora noi nel mondo occidentale abbiamo gli animali domestici e generalmente assegniamo un nome a questi animali al gattino gli diamo il nome olivia non so quale altro nome oppure chicco per i cani bobby e così via discorrendo perché per nostra abitudine è giusto dargli un nome nel mondo del vicino oriente antico anche le pecore avevano un nome ecco perché alcune volte le pecore venivano chiamate per nome la pecore riconosceva la voce del padrone e la sera quando erano c'era la porta aperta nell'ovile per entrare ecco che entravano quando il padrone il pastore chiamava quindi c'era questa avvicinanza tra la voce del pastore e ciò che le pecore ascoltavano ma perché mette in relazione pastore pecora perché già e ezechiele condannava i pastori che erano in quel momento cosa dovevano fare i pastori dovevano pascere il gregge pasciare la malata andare a perdere la dispersa invece che cosa facevano loro ezechiele 34 chiara facevano loro spersi si vestivano di lana mangiavano il latte ammazzavano ciò che era ingrassato cioè facevano di tutto ma non pascevano il gregge era quello lo scopo del loro essere sacerdoti o servi per il popolo e invece cos'è che dice ezechiele stesso al verso 11 eccomi io stesso mi prenderò cura delle mie pecore e andrò in cerca di loro tutto questo è accaduto per secoli e lo troviamo lo stesso nel capitolo 9 di giovanni quando avviene la guarigione del cieco nato cosa facevano i giudei invece di lodare dio per la guarigione di un cieco che era così dalla nascita vanno a chiamare i genitori cercano la dimostrazione che effettivamente era cieco che lo chiedono a lui se era cieco non era cieco come mai era il cieco come è successo cioè tutto quello che facevano era non badare alla pecora ma cercare in qualche modo di andare oltre al compito che gli era stato dato gesù per questo li accusa ora li accusi ma nella tale che dice voi pensate di essere mie pecore ma io ho anche altre pecore che non sono di questo video ovviamente cercava di allargare un po la visione pastorale non solo agli ebrei ma anche ai gentili cioè tutti noi in modo tale come dice paolo alla lettera degli epesimi dei due popoli alla fine di farne uno solo sotto la guida di un unico pastore tanto che una volta che sono sotto la guida dell'unico pastore lui stesso dice nessuno li potrà rapire dalla mano di dio il termine che viene utilizzato al palzo è lo stesso termine che viene utilizzato per il rapimento della chiesa in questo caso se la chiesa viene rapita in questo caso nessuno le può rapire dalla sua mano a meno che quella pecora non ascolta più la voce del suo pastore quindi cos'è che sottolinea la fine di Gesù che in un modo l'altro lui e il padre erano uno è da qui che nasce e allora la diatriba perché loro volevano lapidarlo Gesù dice per quale motivo mi lapidate no ti lapidiamo non per le opere che fai non per quello che dici ma per bestemmi perché tu che sei uomo ti fai dio ecco qual era la motivazione ma che aspettavano anche da un po di tempo che lui si sentiva dio e allora questo era un motivo per portarlo a morte ma c'era un motivo ulteriore con questo dire che lui si faceva dio per gli ebrei proprio in un giorno particolare che era il giorno della dedicazione riaffiorano i tormenti di 200 anni prima quanto antioco quarto una volta che ha profanato il tempio è arrivato là e si è fatto come dio e allora è come dire come proprio oggi che noi ricordiamo la ridedicazione del tempio arrivi tu che ti rifai dio come uno che è venuto 200 anni fa ma qual è la risposta di Gesù la risposta di Gesù dice ma se noi prendiamo la legge e voi conoscete la legge non si può annullare allora dice che anche noi possiamo anche voi potete essere degli dei allora che cosa fa voi mi condannate perché io stesso dico che sono il figlio di dio e mi condannate per bestemmia quando la stessa parola non si può annullare e allora mettevi in mostra come anche loro non erano in grado di giudicare che avevano davanti perché non stava bestemmia stava solo dicendo la verità e allora mentre i giudei stavano per prendere le piede per lapidarlo nonostante qualsiasi tipo di giustificazione e allora che cosa fanno Gesù e suoi vanno via e fanno opere al di là del giordano tanto che gli abitanti di quella zona che dicevano ecco tutto quello che diceva il battista di lui era vero non faceva miracoli come gli faceva gli fa Gesù ma tutto quello che diceva era vero ecco che dal momento passato della festa della dedicazione torniamo ai giorni di Gesù nel quale lui stesso si definisce uno con il padre e sarebbe il messia da lui mandato e allora cos'è che il punto centrale che serve a noi andiamo allora verso il futuro Giovanni stesso ripete che io sono venuto nel nome del padre mio e voi non mi ricevete non l'hanno riconosciuto anzi lo volevano rapidare perché si faceva Dio però cos'è che sottolinea Giovanni al capitolo 5 verso 43 se un altro verrà nel suo proprio nome voi lo riceverete perché è importante da parte nostra sottolineare questo verso noi siamo partiti col fatto che la festa della dedicazione nasce per quello che è successo 230 anni prima cioè è accaduto quello che gli ebrei chiamano l'abominazione della tesorazione questa cosa è ripetuta in mattia 24 la ritroviamo in Daniele e la ripeterà Paolo per qualcosa che accadrà nel futuro è un momento in cui per gli ebrei c'è la massima profanazione possibile e questo è un evento che è successo Antioco potrebbe rappresentare la figura di un anticristo che in qualche modo ha profanato il tempo in quel tempo ma mette in mostra qualcosa che accadrà a breve anche nel mondo che noi stiamo vivendo quello che accade oggi in Israele proprio in preparazione di avvenimenti che ci saranno perché anche lì per la costruzione del tempio cosa accade gli ebrei hanno tutto pronto hanno pronto le pietre già ben tagliate hanno pronto gli arredi hanno pronti i vestimenti e addirittura per controllo del dna hanno pronto le viti e sacerdoti hanno anche in un modo nell'altro fatto ingegneria e genetica per avere la giovanca rossa quindi tutto è pronto manca solo il momento per ricostruire il tempio affinché l'abominazione della desorazione così come era indicata in Daniele e è sottolineata in Apocalisse possa riavverarsi ma il problema qual è? Dio vuole che venga ricostruito un nuovo tempio fatto di mattoni? No. E mettiamo un po' ai tempi più nostri. Cosa accadeva al portico di Salomone? Atti 3 e atti 5 mettono in evidenza come gli apostoli stessi una volta che Gesù era sceso in cielo cominciavano a fare miracoli. In atti 3 vediamo che c'erano Pietro e Giovanni che andarono al portico di Salomone e una volta che hanno visto qualcuno uno zoppo cos'è che dice Pietro? Io regendo non ho ma quello che ho te lo do e allora ti sia fatto comincia a camminare nel nome di Gesù. Ecco il primo uno dei primi miracoli che sono accaduti proprio nello stesso portico cosa che accade anche in atti 5 era questo luogo di ritrovo ma oggi se quello era il luogo di ritrovo per loro il nostro portico è la nostra chiesa la nostra comunità il luogo in cui noi siamo pronti ad accettare il nostro Signore. Perché? Perché il vero Tempio non è un luogo fatto di mattoni, un luogo dove noi possiamo andare. Il vero Tempio siamo noi. Siamo noi che dobbiamo dedicare il nostro Tempio a Dio perché noi il nostro Tempio è il luogo dove c'è lo Spirito Santo e questa dedica deve essere indicata per dire ok il luogo dove solo tu puoi stare. Gesù ha sottolineato come lui è il vero pastore colui che si prende cura delle sue pecore in tutto e per tutta tanto che ne lasciano il 99 per andare a ricercare quella perduta ma come buon pastore accetta che le pecore lo ascoltino. Quindi oggi non occorre attendere o andare in un luogo di mura per dire che il Tempio è di Dio. La chiesa sì è l'unione di tanti credenti che lodano nello stesso luogo il nostro Signore. Può essere la chiesa ma come accadeva ai primi a primi cristiani potrebbe essere la catacomba o qualsiasi altro luogo anche le piccole unioni che si fanno in casa. Il vero Tempio siamo noi. E qual è lo scopo di Dio? Vuole stare con noi, vuole abitare con noi. È una cosa che ha sempre fatto già dall'Antico Testamento. Cosa è accaduto nell'Antico Testamento? Levitico 26 al verso 11 e 12 dice io stabilirò la mia dimora in mezzo a voi e non vi detesterò. Qual è questa dimora che ha stabilito Dio? È quello che gli ebrei chiamano il Mishkan, il luogo di dimora, il tabernacolo che sta a identificare una residenza. Era lì, ci ricordiamo, l'Antico Testamento, dove scendeva la presenza di Dio. Perché? Perché voleva abitare col suo popolo. Non voleva stare lontano, voleva stare con il suo popolo. Vuole risiedere, vuole porre residenza accanto al suo popolo. Come fa un pastore a stare vicino alle pecore di lontananza, cioè a migliaia di chilometri di distanza non sarebbe possibile. Dio voleva stare col popolo ebraico. Ecco perché abbiamo il tabernacolo. Ecco perché c'è stato il Tempio. Ma ancora di più, quando l'Angelo ha parlato con i genitori di Gesù, chi è che doveva arrivare? Qual era il nome del figlio che dovevano ricevere? L'Emmanuele, cioè il Dio, con noi. Dio ha sempre avuto il desiderio di stare con noi. L'ha avuto prima. E ha avuto anche, per chi c'era duemila fa, e duemila anni fa, la possibilità di stare proprio accanto a Dio e camminare insieme a Lui. Perché? Perché come dice l'Apostolo Giovanni al primo capitolo, la parola si è fatta carne. E che cosa ha fatto? Ha abitato per un tempo fra noi, piena di grazia e di verità. Il termine qui che viene utilizzato, scheneo, sta per indicare, mettere una tenda, avere un tabernacolo, oppure abitare in un tabernacolo. E' questo che ha fatto Dio. Tanto che voleva stare col suo popolo, che lui stesso è venuto in carne per stare con il suo popolo. Allora voi mi direte, sì è vero, però noi adesso che cosa abbiamo? Non abbiamo Gesù. Gesù è morto. Non c'è più opportunità. E chi è che ci viene in aiuto? E qua abbiamo l'Apostolo Paolo, che la lettera degli Efesina, capitolo 3, cos'è che ci dice? E faccia sì che Cristo abiti per mezzo della fede nei vostri cuori. Quindi c'è una possibilità con cui Dio può stare con noi, anzi, diciamo di più, in noi. Il termine qui, katoiticheo, abitare, cosa sta a indicare? Significa mettere casa permanentemente, risiedere. Dov'è che noi abbiamo la residenza? Ovviamente quando coincide con il domicilio. Dove noi stiamo? Stiamo la mattina, stiamo la sera, ci dormiamo, magari la mattina andiamo per andare al lavoro, ma il nostro luogo dove la famiglia si riunisce è casa nostra. È lì che risiediamo, lì che abitiamo. Cos'è che vuole fare Dio, come dice Paolo? Faccia sì che Cristo abiti, possa risiedere, possa mettere casa permanentemente dove? Nei nostri cuori. E questo è sempre stato il desiderio di Dio, stare con noi, stare in mezzo a noi, risiedere nella nostra vita permanentemente, perché lui da buon pastore allora può accudirci, può sopporrerci, può aiutarti, può confortarci in ogni momento, in base ai momenti che noi viviamo, ma sempre se noi lo vogliamo, perché come dice lui, come che lui può abitare nei nostri cuori, può risiedere nei nostri cuori? Solo per mezzo della nostra fede. Detto in maniera letterale, oggi Dio vuole tabernacolare nei nostri cuori. È lì che noi dobbiamo fare il nostro tabernacolo per il nostro Signore, il nostro Tempio, perché noi siamo il Tempio di Dio. È questa la limone di Dio, vivere in noi. È questa la scelta che ognuno di noi deve fare. Non c'è nessuno che te lo può obbligare, lui non te lo obbligherà di sicuro, ma è il suo desiderio. Dall'altra parte occorre che ci sia il nostro. Vogliamo noi dedicare il nostro cuore a Dio? Vogliamo dire che effettivamente il nostro cuore diventi il Tempio di Dio? o no? Scegliamo, facciamo la giusta scelta, fin quanto lo possiamo, ma pur sapendo che Dio ci vuole abitare dentro di noi, in modo tale che è vicino a noi per qualsiasi momento della nostra vita. Che il signore ci accompagni.